buongiorno a tutti anzi dovrei dire buonanotte visto che siamo a mezzanotte in quarto quindi siamo già a mercoledì comunque magliettina della settimana con la frase e intanto che la guardate vi dico di che cosa tratta questo video perché stavolta vado un po' a ruota libera perché sentivo oggi ero su instagram bello tranquillo stavo dando un'occhiatina a instagram e c'era la manuelina meleleo che penso che molti di voi conoscano che poverina era lì un po' dubbiosa cosa devo fare cosa non devo fare stava studiando diritto adesso non mi ricordo più se era costituzionale o che cosa comunque era una delle branche del diritto c'era lì un librone alto così era un po' sul disperato ha detto che comunque lei è già laureata eccetera ha già fatto un magia ha anche un master quindi il premio da deficienti l'abbiamo vinto noi lei è bella laureata masterizzata eccetera 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 noi siamo comunque lasciamo perdere brava lei e ci mancherebbe però era lì un po' così perché fa devo seguire il dovere devo seguire questo devo seguire quello devo seguire quell'altro e allora mi ha dato spunto per questo video un po' particolare e quindi vi do il mio parere il mio consiglio eccetera dall'alto della mia esperienza visto che sono diversamente giovane l'età più o meno qualcuno la sa qualcuno no fa niente non la dico comunque quando io sento parlare di dovere e non sei obbligato è una cosa tua personale che vuoi fare tu ma non è un tuo obbligo cioè non sei obbligato a fare quella cosa lì perché se non la fai sono uccelli per diabetici detto in maniera simpatica e non vera e propria perché per esempio io quando mi sono trovato a vent'anni a perdere il padre avevo dei doveri e basta certo mi sono ritagliato i miei momenti però avevo quei doveri di dovuto lasciare l'università ho dovuto pensare al negozio ho dovuto fare un lavoro che da una parte mi piaceva ma dall'altra diciamo che il lavoro di cartoleria non sai mai quanto guadagni indicativamente perché è un ciclo continuo l'incassi li tiri fuori l'incassi li tiri fuori l'incassi li tiri fuori l'incassi li tiri fuori l'incassi poi c'è sempre il magazzino che sono soldi ma sono lì immobilizzati e noi il magazzino purtroppo era sempre purtroppo sempre bello pieno perché ahimè quando tu a gennaio devi fare l'ordine per settembre non puoi sapere quanti quadernoni venderai e quindi cerchi sempre per accontentare la clientela di avere sempre quadernoni nuovi anche perché comunque avevamo una clientela abbastanza selezionata se si può usare il termine quindi erano lì che tutte le volte guardavano ma quello lì è il quadernone dell'anno scorso noi vogliamo quelli nuovi e quindi cosa succedeva se tu avevi avanzato 100 quadernoni globale faccio un numero a caso ma forse potevano anche essere di più dall'anno precedente ne acquistavi di nuovi e naturalmente qualcosa ti avanzava sempre non riuscivi a venderli tutti quindi tutti gli anni si io vedo adesso che la gente può quindi praticamente avevi sempre questo ciclo continuo non è che stessimo male ci mancherebbe però non è che stavamo neanche benissimo in più avevo la questione militare tutto quanto quindi mi sono trovato proprio con l'obbligo di stare in negozio non potere fare nessun altro tipo di lavoro per cinque anni eccetera quelli erano proprio dei doveri che dovevi fare ne hai obbligato causa la cosiddetta causa di forza maggiore sei obbligato a fare una cosa che non ti piace ma purtroppo la vita o quello che percorsi della vita ti hanno obbligato a fare quello perché non puoi fare diversamente poi ci sono invece i doveri nostri tra virgolette morali no quello che magari tu stai bene sei a posto economicamente sei tutto tranquillo eccetera non hai però di stare a casa fare una beata giovanna non ti va ma nello stesso tempo fai delle cose che a te piacciono ma che però magari economicamente non ti danno delle grossissime soddisfazioni mentre invece se hai la possibilità magari di fare un lavoro che a te fa cagare però ti strapagano ecco e lì ti trovi davanti al bivio cosa faccio faccio un lavoro che non è che mi dà tantissimo economicamente ma non ne ho bisogno oppure faccio un lavoro che mi rende ancora più ricco di quello che sono però già lunedì mattina mi sono rotto i coglioni di farlo e lì è il bivio ragazzi quindi io il consiglio che vi posso dare a meno che proprio non siete obbligati perché purtroppo lo stipendio ci vuole e c'è poco da fare e potete fare quello che vi piace anche se magari guadagnate la metà di quello che può anche un quarto quello che è guadagnate meno di quello che potreste guadagnare facendo il lavoro che non vi piace però siccome non ne avete bisogno potete permettervelo e comunque quello che state facendo in ogni caso può anche aumentare con impegno eccetera eccetera adesso magari guadagnate poco poi piano piano si può arrivare anche a delle cifre interessanti che magari non possono essere uguali a quelle dell'altro lavoro ma comunque vi permetterebbero di vivere più che dignistrottosamente e tranquillamente quindi lì è sempre una questione ripeto il dovere c'è sempre non si hanno diritti se non si hanno doveri diceva quello là però se è un dovere non obbligato come vi ho spiegato pensateci perché fare una cosa che non vi piace io lo dico sempre fare una cosa che non vi piace va male a voi e va male anche a chi vi dà quel lavoro da fare perché lo fate male lo fate sì lo fate perché lo dovete fare non con l'entusiasmo io tutti i lavori che ho fatto a parte il negozio che è tra virgolette perché comunque non era stressantissimo come lavoro era impegnato il problema era quello la rottura di balle di avere il negozio era che era impegnato dal lunedì al sabato sera fino alle sette e mezza tutti i giorni e a natale c'era anche la domenica dal 7 dicembre fino al 24 eravamo aperti tutti e 17 giorni 7 giorni su 7 e scleravi io infatti arrivavo al 24 dicembre poi dopo non facevi in tempo a fare quei due giorni natalizi portavo mia mamma qua al lago tornavo a milano riaprivo il negozio per le questioni di capodanno e tutto quanto poi c'erano quelli che dovevano prendere i regalini all'ultimo momento perché si erano dimenticati quindi ero impegnato poi ci ho aggiunto il carico da 90 quando ho iniziato a prima collaborare col broker assicurativo e poi come rappresentante di materiali edili e poi per parlamentazioni per esterno quindi avevo due lavori e vi lascio immaginare la tempistica era uguale ero sempre impegnato dalle sette sette e mezza del mattino fino alle otto di sera perché comunque poi tornavi a casa avevi il negozio e questo fino al 2006 sì quindi dall'88 al 2006 il negozio dal 2006 al 2010 solo il rappresentante che comunque ti impegnava dalle sette sette e mezza del mattino fino alle sette sette e mezza di sera tutti i giorni quindi le mie 12 ore impegnato per di più sei macchine in mezzo al casino di milano in mezzo al casino della provincia di milano portare in giro questi pannelli che pesavano un botto quindi vabbè però lo facevo con entusiasmo una cosa che mi disse una cosa che mi fece piacere fu un progettista quando avevo appena iniziato avevo iniziato da poco forse un anno e mezzo due anni che facevo appunto rappresentante per questa azienda di pavimentazioni era sceso il grande capo proprietario dell'azienda con qualcun altro perché dovevamo parlare di un grosso progetto con questo architetto e questo architetto gli disse in faccia sa perché ho scelto il vostro materiale perché il signor De Stefani ha così tanto entusiasmo su questo materiale che mi ha convinto lui perché proprio vedi l'entusiasmo di una persona che ti sta proponendo un materiale io ero innamorato di quel materiale mi ero innamorato di quel materiale come l'ho visto ho visto quei pannelli lì con sopra appunto queste piastrelle di cemento quando ho iniziato a lavorare per quel mio amico che aveva appunto 2013 14 aziende per le edilizie ho visto quel materiale lì mi era piaciuto subito era stato amore tra virgolette a prima vista poi è andata come è andata però era quello era l'entusiasmo l'entusiasmo di essere in giro in macchina l'entusiasmo di andare dal cliente a presentargli il materiale raccontargli la rava e la faga questo è bello se fate un lavoro che vi dà questo entusiasmo allora sì non diventa più un dovere ma se fate una cosa perché la dovete fare se potete evitarla evitatela se non potete evitarla cercate di farvela piacere cercate di trovare qualcosa di positivo io adesso ormai il video è troppo lungo vi parlerò dell'esperienza che ho fatto al ristorante facendo una cosa che dissi che non avrei mai fatta invece l'ho fatta e non mi è pesato perché perché ero in un ambiente che mi piaceva comunque detto questo io vi saluto vi ringrazio fatemi sapere voi cosa ne pensate di quello che ho detto magari qualcuno mi dà la gg detto una cazzata liberissimi basta che però se mi dite hai detto una cazzata mi spiegate perché perché se no è bla 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 come sempre io le cose quando uno mi dice sei un cretino io dico va bene sono un cretino mi spieghi perché e non te lo sanno dire e sono quelle offese inutili che non dicono niente cioè giusto perché devi devi fare il leone da tastiera e offenderle persone a spruzzo così detto questo io so che i miei follower non sono così anzi sono sempre tutti molto educati quindi vi saluto vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao